Siamo di nuovo insieme per la prima volta quest'anno nel 2017 con Linea in Comune qui Nello studio della sindaca Cecilia Francese, buon anno innanzitutto e buon anno anche al vice sindaco Ugo Tozzi Allora come sempre questo è un appuntamento importante, noi lo riteniamo tale perché serve un po' per mettere a confronto quello che accade nella città di Battipaglia Lo facciamo con coloro che amministrano questa città Allora sindaco partiamo da una problematica fresca fresca in tutti i sensi e cioè la situazione che c'è attualmente nelle scuole Ovviamente quando si tratta dei bimbi che vanno a scuola si alza un gran polverone come giusto che sia perché fa un freddo che è fuori dal normale Per quanto riguarda noi non siamo abituati a queste temperature quindi volevamo capire un attimo com'è la situazione attualmente nelle scuole di Battipaglia Allora da premettere a parte di tutte le polemiche ma noi avevamo fatto un'ordinanza di chiusura il lunedì 9 Come in accordo con molti comuni del Limitrofi non solo perché il giorno dopo ne abbiamo tenuto i termosifoni accesi il 9 per permettere poi 10 un poco di mitigare Ma soprattutto perché ci chiamavano sindaci dei paesi limitrofi noi molti alunni vengono da paesi da fuori da Cerno, Monte Corvino, Olevano Quindi avevano una seria difficoltà per arrivare a Battipaglia Quindi in accordo con molti comuni limitrofi abbiamo deciso di chiudere le scuole in modo da permettere a tutti di poter E' un freddo eccezionale, ha applicato anche l'iniziativa lì, abbiamo potuto rinviare anche il concerto Cioè voglio dire, veramente è stato un freddo eccezionale e tuttora, insomma non è più come tre giorni fa però il clima si sente Una premessa, noi non abbiamo avuto nessun impianto che non ha funzionato Cioè i termosifoni hanno funzionato dappertutto Il disagio qual è stato? E ve li posso elencare Sì andiamo scuola per scuola così capiamo Scuola per scuola Alla Fiorentino su tutto l'istituto comprensivo non ci sono stati problemi Solo due termosifoni, uno nella ex segreteria e l'altro in un'aula magna che erano poco funzionanti Cioè non ce la facevano a riscaldare per il clima Alla Marconi nessun problema Alla Calamandrei c'è stato un problema di un termoventilatore dove i bimbi mangiano Per cui la preside ha fatto spostare, ora ha liberato due aule momentaneamente Lì sarà cambiato questo termoventilatore, quindi solo nell'aula dove mangiano Poi soprattutto perché gli impianti più che non funzionari sono impianti vecchi e rumorosi Alla Poliziano tutto ok, alla Kennedy ok, alla Gatto Termosifoni tutto a posto, però a partire da sabato e i prossimi fine tre settimane Saranno puliti dalla polvere i ventilconvettori E quindi siccome si deve fare con un compressore si emana polvere il rumore Quindi sabato e domenica per tre settimane consecutive sarà fatto questo lavoro Che erano dieci anni che non venivano puliti Quindi diciamo che questa è stata un'occasione anche per fare una verifica Alla Giovanni XXIII tutto ok, però è prevista la sostituzione di una valvola dalla caldaia In questi giorni ci troviamo e mettiamo anche se era tutto ok Caduti del velella tutto ok, solo in un'aula c'è un termosifone che è malfunzionante I dirigenti scolastici sono stati sentiti tutti i giorni dall'assessore Gioia Che anche oggi puntualmente ha fatto il giro Diciamo che dobbiamo ringraziare i dirigenti e i tecnici comunali per il lavoro svolto Abbiamo Franco Ruggiero che veramente in questi giorni ma anche gli altri funzionari Si sono fatti il giro delle scuole Ma soprattutto io voglio ringraziare vivamente l'assessore Gioia e l'assessore Provenza Perché sono stati quelli che sono stati diretto contatto Stamattina mi chiamava una preside che conosco Dice sindaca ma è vero dottoressa Dottoressa ma è vero che una mamma ha letto su Facebook Maledetto Facebook Io non so se io non sono il tipo che devo comunicare Su Facebook che lei non vuole cambiare questo termoventilatore Lì alla Calamandrei Io non vado a scrivere certo queste cose Vedete sulla mia pagina eventualmente Le cose ufficiali sono lì Oramai Facebook l'avete letto Insomma è diventato È un bellissimo strumento per comunicare Per dialogare Però sta diventando veramente un strumento denigratorio Io non ho mai visto tanta pubblicità gratuita Negativa Cattiva Nei confondi da Ma proprio sul niente Perché dico discutiamo sui contenuti Sui fatti, sui programmi Invece si discute sul niente Il gusto di massacrare Di denigrare Di denigrare Cioè voglio dire Io non sono abituata a questi livelli Dico Dico Voliamo alto come ho scritto Parliamo di altro Quando volete confrontarvi su argomenti seri Siamo disponibili Quando volete fare chiacchiere Volete fare particolezze Vai mi dispiace Non fa per me E non fa per l'intera amministrazione Rimaniamo in tema scuola E Io volevo capire una cosa Sindaco Ma questi terreni su cui sorge L'istituto Penna Sono terreni comunali O sono terreni della Camorra Perché a questo punto Mi viene il dubbio Allora Noi abbiamo fatto l'inaugurazione Di questa bellissima scuola Ti viene la voglia Di andare a scuola Per stare in quell'istituto Che è veramente bello È stato fatto con tutti Antisismi Antitutto Insomma Veramente I bambini Ci hanno spazio Ci hanno addirittura Il videoproiettore In ogni camera Insomma In ogni stanza È veramente bello Quella è una scuola Interamente comunale Mi piace sottolineare questo Tra l'altro Non mi voglio prendere il merito Io L'ho riconosciuto Alle amministrazioni precedenti Ma Quello che ho ringraziato Ho ringraziato Il commissario Di aver riportato La scuola Su un vecchio progetto Cioè La scuola Doveva sorgere Già tempo fa Prima di questi terreni Confiscati Doveva sorgere Su quel suolo Perché Quel suolo È comunale Sono terreni Che Donati Dall'istituto Incurabili Di Napoli Quindi Donati Al comune Di Battipaglia C'è stata tutta una causa Sotto Perché c'è stata una signora Che per uso capione Aveva detto Che erano suoi Ma che abbiamo vinto Anche il consiglio di stato Sono terreni Nostri Che Erroneamente Sono andati a finire Perché Quando c'è stata la confisca Hanno perimetrato Tutta l'area In cui ci sono Terreni confiscati Sono quelli dove stanno Gli orti sociali Per indenderci E i terreni nostri Che sono nostri Sono del comune di Battipaglia Quindi questi sono terreni Comunali Costruiti con fondi Comunali E cassa depositi E presi Quindi ci teniamo a dire Che quello È un gioiello Prettamente Del comune di Battipaglia Ringrazio I funzionari Che ci hanno lavorato La ditta Che ha progettato E che ha costruito L'altra ditta Ma quello È veramente Un lavoro Del comune Di Battipaglia Quindi a scanso Di equivoci E sono anche altri Terreni del comune Lì Che potrebbero poi Certo Perché bisogna avviare La procedura Per di nuovo Per far riconoscere Che sono terreni comunali Altra cosa Da quelli confiscati Sono confinanti Perché Sì Effettivamente Sono confinanti Ma sono due cose diverse Perfetto Allora rientriamo un po' In quelli invece Che sono le tematiche Di questo Anno nuovo 2017 Partendo proprio Visto che abbiamo qui Approfittiamo Del vice sindaco Ugo Tozzi Partendo Proprio dalla questione Sicurezza Perché sicuramente Rappresenta Un punto Di inizio Quindi ci auguriamo Che nel 2017 Insomma Entro quest'anno Abbiamo 12 mesi Insomma Vice sindaco Ce la possiamo fare A migliorare La situazione Dal punto di vista Della sicurezza Magari con telecamere Oppure Non lo so In un altro modo Ma Lei è appassionata Delle telecamere Più volte Ci incontriamo In queste interviste Ne parliamo Sì Stiamo valutando Naturalmente Seriamente La questione Sicurezza E quindi Videosorveglianza E siamo venuti A conoscenza Dei cosiddetti Pali intelligenti Cioè Sono dei pali Che vengono utilizzati Non solo Per l'illuminazione Che dovrà andare a bando Al più presto Perché Sapete bene Che c'è stata già Con la precedente amministrazione Un bando Che poi sappiamo Come è andato a finire Quindi Annullato E abbiamo Un'illuminazione Fatiscenti A battipaglie Dove vediamo bene Alcune zone L'illuminazione Bianca da una parte Gialla dall'altra Sulla stessa strada Quindi è importante Realizzare questa nuova Pubblica illuminazione Con L'illuminazione A led Che garantirà Naturalmente Anche un risparmio Per le casse Dell'ente E su questi Pali intelligenti Quindi che ci permettono Questa nuova Tipologia Di illuminazione È possibile Installare Anche Le telecamere Per la videosorveglianza E mi dicevano Inoltre Entrerà in vigore Anche Una nuova normativa Per la lettura Dei contatori Del gas E dell'acqua Per cui Ci sarà la possibilità Di mettere Di installare Delle antennine Su questi cosiddetti Appunto Pali intelligenti Noi parliamo In campagna elettorale Della smart city Quindi di un Di un progetto Innovativo Di una città Intelligente Una città nuova Ebbene è possibile Installare Queste antennine Su questi Pali In modo che Vadano Ad effettuare Una lettura Delle varie utenze Quindi sia del gas Che dell'acqua E che resterebbero Di competenza comunale Ossia Viene fatto Un bando Per questi pali Quindi per l'illuminazione E quindi è chiaro Che sarà dato in gestione Per un tot di anni Perché il comune Sappiamo bene Diciamo sempre La stessa cosa Non ha risorse Per affrontare Questo tipo Di problematiche E invece La competenza Delle antennine Appunto Per la lettura Delle utenze Sarà di competenza Del comune Quindi come se fosse Poi un Un rientro Che avremo Come ente E quindi Un po' di soldi Che possono entrare Nelle casse comunali Questa naturalmente Non è una Soluzione rapida Però Già abbiamo incontrato Diciamo Alcune ditte Che fanno Questo tipo Di servizio Che credo Sia innovativo Voglio dire Inutile Tornare A riparare Ad esempio Quelle che sono Le telecamere Di oggi Che non sono Adatte Né per vedere Chi delinque Perché non è Possibile individuare Il volto Del trasgressore Né tantomeno È possibile Individuare Le auto In entrate In uscita Come più volte C'è stato anche Segnalato Dalle forze Dell'ordine Per il problema Di leggere Appunto La targa Perché sono Purtroppo telecamere Vecchie o Besolete Di circa Vent'anni E quindi È chiaro Che bisogna Intervenire Con la completa Sostituzione Con le nuove Tecnologie Ok Torniamo poi A lei Così mi fa Un bilancio Assessore Vicesindaco Di quello Che è stato Di quello Che sarà In 2017 Invece la sindaca Mi fa Un quadro Generale Su quali sono I punti essenziali Di questo Anno Non siamo ancora Andati al bilancio Però insomma Ci stiamo avvicinando Quello che faremo O quello che farete Quello che farete Sicuramente Abbiamo una scadenza Tra poco Che è il DUP Il documento unico Di programmazione E piano opere pubbliche Triennale E quindi Dovriamo mettere lì Tutto quello Che è nostra Intenzione di fare Ovviamente Bisogna essere concreti Non che Tu puoi mettere Certo Chiaro Quindi bisogna essere Sicuramente Una cosa Che andrà fatta È Il sistema Fognario Di Sant'Anna E di Taverna Perché puntualmente Ormai con queste Piogge eccezionali Non regge Quindi abbiamo Ideato Una serie di interventi Che è possibile fare Certo Non risolvere Al cento per cento Ma almeno Migliorare sicuramente Quella situazione Sono stati avviati Partiranno a breve Già i due Ponti Di via Clarizia E via del Centenario E questo per eliminare Le zone rosse E la stessa cosa Anche il collegamento Si spera Questo dovrebbe essere Tra poco Avere l'ok Della regione Della strada Tra comunicazione Tra Belvedere E Bellizzi E quindi Anche per Eliminare un po' Di traffico Sulla nazionale In via Bellizzi Queste sono le Grandi cose Poi è chiaro Che a proposito Di quel tesoretto Che avevamo avuto Una parte Intendiamo Mettere dei soldi Per Riorganizzare Un po' La struttura Informatica Perché Noi abbiamo Dei vecchi Computer Obsoleti Lenti Un sistema Che non va Abbiamo più volte Sollecitato Però ovviamente Per l'informatica Ci vogliono i fondi Una parte Dovrebbe andare Per le politiche sociali Intendiamo Rimettere Anche in sesto L'assistenza domiciliare Degli anziani E Una parte Per costruire Il manto Il manto stradale C'è un piccolo Rifacimento Che è iniziato Con Via Ionio Perfetto L'assessore Proenza È riuscito a ottenere Per dei lavori Che hanno fatto Per dei capi Che passavano sotto Almeno di mettere Una parte Sistemarla Sistemarla È una cosa poca Ma insomma Almeno quello Ci proviamo Ma soprattutto Di vedere Queste le cose Più 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 Importanti Ma poi Dovremmo mettere Anche La possibilità Stiamo Valutando Approntando In questi giorni La possibilità Dove sta La grande Rotatoria Di un terminal bus Con un progetto Di finanza Per cui Quello prevede Anche L'aggiustamento Degli attraversamenti Tra Belvedere E Battipaglia Ma soprattutto Un grosso terminal bus Per evitare Tutti quegli ingorghi Che si fanno Ormai È diventato È diventato Una Difficoltà Soprattutto la sera Quando si fermano Questi bus Per grandi linee E anche lì Se va in porto Dovrebbe essere Una bella cosa Dovrebbero sorgere Su quei terreni Che sono ANAS Quindi stiamo In questi giorni In trattative Con l'ANAS Per acquisire Quei terreni E questo anche Per esempio Stiamo trattando Con Flixbus Che sono Queste compagnie Low cost Per cui Dovrebbero collegare Battipaglia Eboli Belizi Fino a Capaccio Ma con La rete nazionale E internazionale E questa è una bella Una bella cosa Ci stiamo lavorando Queste sommariamente Le grosse cose Per i lavori Abbiamo letto Negli ultimi giorni Che rispetto A questo freddo Che c'è stato Avete preso Delle precauzioni Per i Crochard Sì Noi avevamo Avuto C'è stato Un freddo Abbiamo Innanzitutto Ci siamo messi In contatto Con le parrocchie Perché c'è da dire Che anche San Gregorio Parte Sant'Antonio E lo stesso seminario Donnezio Insomma Riescono un po' Ad accogliere Persone che ne hanno bisogno Abbiamo reperito Abbiamo trovato Queste due ale Nell'ex penna L'istituto penna Quello dove stanno I vigili urbani Ringrazio il comandante Dei vigili Che ha garantito Il controllo notturno Insomma Da parte dei vigili Ma soprattutto La protezione civile E la croce rossa Che ha prestato L'opera Per queste persone Abbiamo Ancora ora E' aperta Ai crociar Ma soprattutto Sono di meno Le persone che stanno venendo Ieri c'era solo una persona L'altro giorno Erano tre Più Altri tre Che venivano Avano perso il treno E quindi alla stazione Sono andati lì Ma soprattutto Ci sono molti Che non hanno voluto L'accoglienza Hanno preferito Rimanere dove stavano La protezione civile Ha portato roba calda Coperta E devo dire Che proprio Tutta la popolazione Ha partecipato A donare E questo è molto bello A donare La parrocchia di San Antonio Ci ha donato Dieci sacco a pelo Per queste persone E quindi Abbiamo potuto Far riparare Ma soprattutto Penso che andremo dopo In collaborazione Con la Lega Nazionale Del cane Quindi Alfredo Riccio Qui a Battipaglia Che rappresenta Abbiamo individuato Anche un'area Dove accogliere Gli animali Che Gatti Di questo poi faremo Uno speciale A parte Perché andremo Proprio sul posto L'ambulatorio Di veterinaria Che noi abbiamo Predisposto Dove sta la scuola Elementare Lì dietro Perfetto Anche lì C'è stata una Molta solidarietà Da parte delle persone Meno male Tozzi a proposito Di protezione civile Quindi Quali sono I presupposti Cosa ci aspettiamo Per questo 2017 Ma innanzitutto Come diceva la sindaca Un plauso Alla protezione civile Perché svolge Un volontariato E un'azione straordinaria In città E molti non lo sanno Infatti L'attività Della protezione civile Cioè quella Di portare Cose calde O anche Le coperte È già un'attività Che veniva svolta Negli anni Dalla protezione civile E quindi Un ringraziamento A Michele Mattia Che è il Capo nucleo E a tutti i volontari Che sono presenti Continuamente Sul territorio In associazione Con La Croce Rossa Con i vigili Del fuoco E con la polizia Municipale I ragazzi Della protezione civile Sono presenti A 360 gradi Ne abbiamo parlato In estate Sul problema Degli incendi Sono presenti In inverno Con le gelate Insomma Sono sempre presenti Anche per gli eventi Ad esempio Della Befana La discesa Del babbo natale Dal comune Insomma Sono dei ragazzi Davvero straordinari Che a titolo Appunto Gratuito Di volontariato Perché ce l'hanno Proprio nel Nel sangue E hanno un legame Dicevo Molto stretto Con Il comando vigili Per i quali Ricordo Finalmente Sono state prese Le misure Per quelle famose divise Ah è vero Che punto sono Eh sì Hanno cominciato Come facciamo con le stive Siamo riuscito No ma non solo Quelle stive Hanno soltanto La pettolina Quindi voglio dire È una presentazione In città Bruttina Ebbene Abbiamo sbloccato Finalmente il bando E hanno cominciato A prendere le misure Ci avevano premesso Per fine anno Purtroppo Questo non è stato possibile Ma per fine gennaio Sicuramente Avremo i vestiti Per Faremo una festa Per l'occasione Faremo sicuramente Una grande festa Di consegna Per Per le divise Quindi più San Sebastiano E' il 20 Non ce la facciamo No Diamo 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 tempo Sindaco Volevo un attimo Chiudere Con lei Ci sono state Un po' di polemiche Riguardo al concerto Del 6 Del 6 gennaio Quello che è stato poi rinviato In realtà Insomma Alcuni giovani Anche su A proposito di Facebook Si lamentavano Non essere fondamentalmente Stati coinvolti Si può pensare Appunto In questo nuovo anno Di coinvolgere Maggiormente Gli artisti Che abbiamo Su questo territorio Cantanti Musicisti Perché Effettivamente È una città Che ha Molti artisti Locali Bravi Certo Non si dimentichi Che sono stata Quella Io e il vice sindaco Subito all'indomani Che ci siamo insediati C'è stato il problema Della festa Della speranza Abbiamo coinvolti Molti Questo era Semplicemente Innanzitutto Erano fondi privati Quindi Noi non abbiamo Tolto niente Alle casse Del comunale Lungi da me E Il gusto di lamentarsi Volevamo E vogliamo Donare un concerto Che sia un concerto Fatto da Persone E una cover Di Pino Daniele Ci sono parte Dei musicisti Che con Pino Daniele Hanno suonato tanti Ed era un omaggio In occasione Della morte Che Dell'anniversario Della morte Di questo cantante Caro a tutti noi Di un omaggio A Pino Daniele Ma anche un omaggio A la città di Battipaglia Di portare qualcosa Perché molti Si sono lamentati Cioè A Salerno C'è venditti Dappertutto Proprio Incontrato A un concerto Dice Sindaca Va a Battipaglia E non portare mai nessuno E quindi abbiamo pensato Di donare qualcosa Che fosse un po' particolare Insomma Avevamo sentito Insomma Si è andati in rete Potete vedere Sono professionisti Ed è veramente Un bellissimo concerto Del resto Voglio dire Non è che noi abbiamo speso 250.000 euro Come sono stati spesi A Salerno Con dei ditti No Speso Costa 6.000 euro Ma 6.000 euro Non è che solo la banda Tu devi approssare Tutto Tutto Ci sono effetti Luci Il palcoscenico Particolare Voglio dire Che sarà rinviato A quando? L'abbiamo rinviato Perché noi Ringraziamo anche L'organizzazione Perché mi rendo conto Che rinviare Dall'oggi al domani Un concerto Ci poteva costare Una grossa penale Invece Stiamo pensando La data Potrebbe essere San Valentino Potrebbe essere La festa della primavera Ma insomma Non oltre Perché anche loro Partono per tournée Quindi ci hanno chiesto Di fare il periodo invernale Quindi era stato Semplicemente Per donare qualcosa Di carino Insomma Omaggio a Pino Daniele E anche Io voglio ricordare Che due anni fa La stessa organizzazione Portò Quella band In omaggio a Barry White Anche lì ci furono C'erano i commissari Anche lì ci furono Molte critiche Ma tantissime Poi Quando sono state visti Per questi professionisti Tutti quanti Che bello Che bello Ma poi guardate Le critiche vengono Sembra da 4-5 persone Sono quelli che Se non li coinvolgi Ti devono criticare Se li coinvolgi Non ti criticano Insomma Qui c'è spazio per tutti Per cui chiunque Vuole proporre qualcosa Di carino Di fattibile Io E noi Non abbiamo detto mai No a nessuno Questa era una cosa In più Che non costava niente Niente alle casse comunali Ma che erano fondi di privati Che abbiamo Una parte investita In questo modo E un'altra parte L'ho detto Ci saranno dei giochi Che noi vogliamo Offrire Ai bambini Di battipaglia Iniziando con la piazza Madonnina Ma però poi Sperando sempre Con altre donazioni Di portare Degli spazi Per i bambini I bambini Che sono sempre stati Bistrattati Non c'è mai spazio Per loro E invece bisogna favorire Questa fascia di età E con questo augurio Noi vi lasciamo Per questo appuntamento Con linea in comune Vi diamo appuntamento Alla prossima settimana Ovviamente Se avete qualche richiesta Qualche domanda da fare Fatelo attraverso Il profilo facebook Di Sud TV Attraverso di noi In modo tale Che possiamo Oppure Connettetevi direttamente Con la sindaca Tanto insomma La linea è diretta Grazie alla sindaca Grazie a Ugo Tozzi E grazie a voi Come sempre Per averci seguiti Per averci seguiti